E' stato scoperto un dirigente pubblico con doppio lavoro e sono stati sequestrati 340.000 euro di compensi indebitamente percepiti. L'operazione è del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza dell'Aquila, che ha eseguito un sequestro conservativo disposto dalla locale Corte dei Conti per un valore di 340.000 euro nei confronti di un dirigente dell'Asla numero 1, Avezzano Sulmona l'Aquila, che ha svolto in modo continuativo e non occasionale una rilevante attività professionale privata, inizialmente senza la prevista autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e poi indiformità della stessa. Le investigazioni delle fiamme gialle hanno permesso di appurare che il dirigente dal 2007 al 2015, sebbene titolare di un incarico a tempo pieno, ha curato incarichi relativi a progettazioni, collaudi, direzioni e lavori nell'ambito della ricostruzione post-sisma, per conto di numerosi soggetti privati. Per diversi anni l'attività professionale extra-istituzionale è stata inoltre svolta in totale assenza della prevista autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, essendo stata questa richiesta solo nel 2012. Le indagini delle fiamme gialle hanno consentito di appurare inoltre che dopo tale data il dipendente pubblico, sebbene autorizzato, ha continuato ad esercitare l'attività extra-istituzionale con regolarità, sistematicità e ripetitività, nei confronti di una moltitudine di committenti, non rispettando il limite dell'occasionalità imposto sia dalla normativa di settore che dalla stessa autorizzazione. La prevalenza dell'attività libero-professionale esercitata dal dirigente in questione rispetto a quella pubblica emergeva inoltre dalla quantificazione dei compensi complessivamente percepiti, rapportando le due diverse tipologie di introite, risultava infatti chiaramente che l'attività extra-istituzionale non fosse solo adeguatamente lucrativa, ma in alcuni anni addirittura prevalente rispetto a quella svolta alle dipendenze dell'ente pubblico. Pertanto il dirigente pubblico, esercitando in modo continuativo e non occasionale una rilevante attività professionale privata, inizialmente in assenza dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e successivamente in difformità della stessa, violava un precetto normativo ben chiaro che, sanzionando le condotte descritte, prevede anche l'obbligo di versamento del compenso indebitamente ricevuto dal dipendente pubblico su un conto corrente dedicato dell'amministrazione di appartenenza, per essere destinato ad incrementare il fondo di produttività dell'ente stesso. Le investigazioni delle fiamme gialle facevano pertanto emergere un danno erariale patito dalle pubbliche finanze a causa dei mancati versamenti dei suddetti compensi da parte del dipendente per un importo complessivo di circa 335 mila euro. Tali danno, prontamente segnalato dai finanziari alla magistratura contabile, cui vanno aggiunti interessi, rivalutazioni e spese accessorie, è stato poi quantificato in 340 mila euro. Grazie a tutti! Grazie a tutti!